Una parata sicura del portiere che blocca il pallone Mkhitaryan Salta il difensore Tentativa apprezzabile, conclusione potente che non inquadra lo specchio Vedremo che contributo saprà dare Mkhitaryan Ho davvero una gran voglia di vederlo all'opera Il match potrebbe essere deciso da una sua giocata, un suo guizzo, un suo colpo I difensori avversari sono avvisati, è il record man di gol di questa squadra Attento qui, ferma il lancio di Di Bala Pallone invitante Ben Yedder Bruta gestione di Ben Yedder Ferma bene l'avversario, può ripartire Si mette bene sulla traiettoria Nessun problema con l'uscita del portiere Buona lettura qui, pallone recuperato Paolo Di Bala Palla interessante in profondità Di Bala Il gol di Di Bala Si è coordinato alla perfezione E ha fatto secco il portiere Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0 Spazza via il pallone Attenzione a Di Bala E con questa palla con questa entrata Ben Yedder Che spettacolo di giocata Non può sbagliare Non può sbagliare E c'è il gol Che reazione Subito dopo aver subito Hanno trovato la rete Hanno pareggiato Dunque 1-1 Di Bala Ancora la circolazione di palla Si riversano in avanti Punks Hanno reagito bene Hanno evitato di farsi schiacciare Ora possono ripartire Bel pallone Filtrante Ma ottima copertura Zidane Prova ad andare Ci è andato vicino Conclusione solo leggermente alta Ha provato a piazzarla Stava quasi per fare centro Miki Tarjan Passaggio intercettato Ben Yedder Zidane Interviene Intercetta il passaggio Di Bala Pedro Miki Tarjan Ho giocato a Chiellini Si resta in parità Provano il possesso palla Per far uscire gli avversari Giocata che non porta a nulla Modric non va Miki Tarjan Ma legge una palla Grazie a un buon teco Offre un assaggio Del suo repertorio Sì su Stato bravo a bloccare Quest'azione Miki Tarjan Brutto passaggio Pallone regalato Ferma l'azione D'attacco Degli avversari Perisic Occhio a Di Bala Attenzione a Perisic C'è spazio davanti Ma che gol ha fatto Non ci ha pensato Due volte Ha fulminato alla grande Il portiere Conclusione al volo Che merita di essere vista E rivista Perché ha avuto La palla buona E non ci ha pensato Due volte Potteggio cambiato Ora siamo sul risultato Di 2 a 1 Enrico Miki Tarjan Intervento rubido Ma corretto Ottimo a recupero Della trequarte avversaria C'è pressione Su di lui Tedro Tedro Pericolo scampato Per il momento Ottimo lavoro difensivo L'arbitro Manda tutti Negli sfogliatoi Primo tempo divertente 2 a 1 Il punteggio fin qui C'è il segnale Dell'arbitro Comincia il secondo tempo Recupera bene Con questa scivolata Prova ad essere Pericolosi Punks Miki Tarjan Di Bala Maldini Entra bene Sull'avversario Modric È fuori gioco Si alza la bandierina Nessun dubbio Sì Era sembrato anche a me Che fosse oltre L'ultimo difensore Nonostante Avesse cercato Di rientrare in tempo Per ricevere palla Hernandez Occhio a Perisic Perisic Tonali Occhio a Perisic E c'è il gol Si porterà più due Con questa rete Ecco il replay del gol Da sottolineare il senso Della posizione E la freddezza Pugui ha controllato la palla Prima di spedirla in fondo alla rete Siamo 3-1 Magari non finirà così Ottimo intervento Ospiti che hanno giocato Un numero superiore di palloni Come dimostrano Le percentuali Sul posto del suo palla Vedi come si divertono Quando giocano Continuano a creare occasioni La palla gira velocemente Infilano la difesa avversaria Come un coltello nel burro La differenza Tra le forze in campo E netta Di questo passo Risca di finire in goleada E c'è il gol Di mezzo nello svantaggio Grazie a questa rete Sono ancora in partita Siamo assistendo A un match davvero emozionante Sul risultato di 3-2 Occhio all'avanzata dei punks Tonami Sbaglia il suggerimento Perisic Palla in pallo laterale Paolo Di Bala Palla persa le panze Beny Eder Cerca di scavalcare la difesa Con questo lancio E le gol Hanno reagito Erano sotto di due reti E hanno trovato la parità Efficace qui il lancio profondo A scavalcare il difensore Possiamo apprezzarlo meglio Con queste immagini Un'esecuzione al volo Perfetta Da mostrare ai bambini Delle scuole calcio Molto bella Abbiamo assistito a 6 gol 3-3 Grande spettacolo Si riversano in avanti Punks Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio Casillas Salva il calcio d'angolo C'è il cross in mezzo di Pedro Palla spazzata via Attenzione a Perisic Tonani Occhio a Di Bala Di Bala E c'è la parata comoda Per il portiere Occhio a Lothar Mateus Verri e Der Può crossare da lì Modric Decisivo l'intervento del difensore Possono ripartire in contropiere Occhio a Michi Itariani Tonani Intervento ruvido ma corretto Hanno l'occasione per passare in vantaggio Palla deviata E intervento decisivo Sale l'urlo dei tifosi sulle tribune Chiedono un ultimo sforzo alla loro squadra Per provare a vincerla Fermatutto il difensore Bravissimo qui Non può sbagliare da lì Un intervento che vale come un gol Paolo Di Bala Possesso gestito male dai Punks Cerca il gol che potrebbe chiudere i giochi Visto quanto manca alla fine Giro palla in attesa che si aprono gli spazi Interrompe l'azione pericolosa Pallone comodo Recuperato dal portiere Piedro Pallone comodo Irregolare Modric Vediamo se arriva il cartellino Arretra per ricevere palla Continuano ad attaccare in questi ultimi minuti di gara A caccia del gol vittoria La difesa recupera il pallone Interrompendo l'attacco Prova con il lob Da mettere in moto il compagno Il match è ancora tutto da decidere Il finale si pronuncia bollente Entrambe le squadre sono a caccia del lampo decisivo I tifosi si fanno sentire E ce la stanno mettendo davvero tutta Per trascinare i propri giocatori al successo Piedro avanti parla al piede Zinedine Zidane Efficace la pressione della difesa Recupero del pallone E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti Mkhitaryan Può ricevere una posizione interessante Ho perso il conto dei passaggi Molto bravi qui Fanno correre a vuoto i difensori Occhio al pallone per il possibile vantaggio E c'è il gol Che cambia tutto Sono avanti Adesso a poco dal termine Una voce gelata per la formazione avversaria Vedremo Se avranno la forza per appostare una razione Pierre Non hanno tempo da perdere Finisce qui con la testa della formazione auspile Per questo successo Partita equilibrata con il risultato in bilico fino all'ultimo Paolo Di Bala Palla interessante in profondità Occhio a Di Bala Attenzione a Perisic Grazie a tutti